Ben ritrovati, ben ritrovati, in questo video parleremo di calciomercato, di Frenchesi, ma anche di notizie che arrivano dal centro sportivo di Milanello perché oggi la squadra si è allenata, domenica c'è il big match contro il Napoli in trasferta allo stadio Maradona e quindi c'è bisogno di riprendere subito gli allenamenti per quanto riguarda la squadra rossonera, ma parliamo di calciomercato, parliamo della linea che ha adottato il Milan, la strategia che ha adottato il Milan Paolo Maldini, Ivan Gazzidis e Frederic Massara nel trattare i rinnovi di contratto e in particolar modo quello di Frenchesi. Partiamo questa volta però dalla prestazione di Chessi, leggermente meglio rispetto alle ultime gare, non ha fatto una gara straordinaria, insomma non parliamo di un partitone da parte di Frenchesi, ma sicuramente qualcosa di meglio rispetto alle ultime uscite, lo abbiamo visto contro l'Inter. Il clou però del discorso su Chessi arriva prima della partita contro l'Inter. Ricordiamo tra l'altro che Chessi è stato anche fischiato dai tifosi del Milan durante la lettura delle formazioni, qualche fischio c'è stato, non da parte della curva sud ma del resto dello stadio, ho notato qualche fischio da parte dei tifosi del Milan, ma ci sta, ci sta per il comportamento che ha adottato e per la strategia che ha adottato Frenchesi nel trattare il suo rinnovo di contratto, nel parlare in passato sul prolungamento contrattuale che poi non si è verificato e non si verificherà nel corso dei mesi. Dicevo, il clou su Frenchesi arriva prima della gara contro l'Inter quando parla Paolo Maldini. Paolo Maldini si è espresso in maniera netta, chiara ai microfoni di Mediaset facendo trapelare tutta la rigidità da parte del mondo dirigenziale rosso-nero sul tema dei rinnovi di contratto. Il Milan ha una linea e la rispetta. Il Milan non ha alcuna intenzione di uscire fuori strada rispetto alla linea che ha adottato il club sui rinnovi di contratto. E su che si dice? L'interesse del Barcellona per che sì è normale, è a scadenza e non abbiamo ancora un accordo. La linea è quella dettata dal club e da questa non ci scostiamo assolutamente, dice Paolo Maldini, che quindi mantiene la barra dritta, mantiene la convinzione di dover andare avanti in questo modo nonostante il giocatore Frenchesi potrebbe andare via a parametro zero e quindi il Milan praticamente perderebbe un centrocampista a fine stagione, come in passato ha perso Cialanoglu e Donnarumma, ma Maldini mette il club davanti a tutto. I giocatori devono adeguarsi alla linea del Milan. Se questi giocatori non vogliono comunque sottostare al diktat lanciato dal club milanista sui rinnovi, sono liberi di scegliere altre destinazioni. E proprio perché con Chessy si è un po' interrotto il dialogo sul rinnovo di contratto a causa delle eccessive richieste del suo procuratore Giorgia Tangana, il Barcellona si è fatto vivo in queste settimane proprio con il manager di Chessy per prenderlo a parametro zero a giugno. Da quello che filtra dalla Spagna, Chessy è davvero molto felice di essere corteggiato dal Barcellona, sta ascoltando la proposta del Barcellona che è arrivato a 6 milioni e mezzo netti all'anno per 5 anni, quindi comunque un ingaggio molto alto. Chessy vorrebbe di più? Al Milan ha chiesto addirittura 8,8 e mezzo, quindi crediamo che nelle prossime settimane ci sia magari un ulteriore aumento dell'offerta da parte del Barcellona per Chessy e quindi si potrebbe anche chiudere a cifre un po' più alte rispetto ai 6,5 ma non crediamo che il Barcellona possa arrivare ad offrire così tanto a Chessy, a meno che non ci siano poi club di Premier League che addirittura mettano sul piatto cifre ancora più alte per Livoriano. Per quanto riguarda il Milan abbiamo sempre detto che l'offerta del Milan arriva ai 6 milioni e mezzo ma non parte dai 6 milioni e mezzo fissi, parte da una base più bassa e con degli scatti annuali di circa 500 mila euro arriverà nel giro di 3-4 anni ad arrivare a guadagnare Chessy 6 milioni e mezzo, quindi si parte da una base un po' più bassa ma comunque parliamo di cifre molto alte, Chessy tendenzialmente se dovesse accettare l'offerta del Milan andrebbe a guadagnare sicuramente di più rispetto a Teo Hernandez che ha accettato ad esempio l'adeguamento contrattuale a 4 milioni più bonus fino al 2026 e non mi sembra che Teo Hernandez sia un giocatore di serie B rispetto a Frank Chessy, parliamo comunque di un terzino di caratura internazionale. Con questo cosa voglio dire? Voglio dire che l'offerta del Milan non è da buttare, è un'offerta comunque congrua a quello che ha fatto vedere Chessy nell'arco di tutta la sua esperienza, al Milan non solo nell'anno in cui stava andando forte. Lui non vuole accettarla, il Milan mantiene la barra dritta, il Milan mantiene la sua convinzione di andare avanti su questa strada e non si scosterà assolutamente da questa linea che ha tracciato il club e quindi alla fine il Milan saluterà Chessy, arrivederci e grazie e volterà pagina, andrà su un altro giocatore. Al momento la storia sta così. Ai tifosi però non è andato giù anche un altro particolare, il fatto che Frank Chessy dopo l'uscita dal campo di Romagnoli per infortunio abbia indossato la fascia da capitano. I tifosi del Milan dicono ma è possibile che questa fascia debba andare sul braccio di un giocatore che fra 11 partite di campionato potrebbe lasciare la squadra a parametro zero. In effetti non è proprio il massimo della vita. Tra l'altro c'è lo stesso Teo Hernandez che ha già fatto il capitano del Milan quando non c'era Romagnoli e Calabria in campo, non c'erano il capitano e il vice capitano. Quindi nella giornata di ieri nel derby con l'uscita di Romagnoli e con la presenza in panchina di Calabria la fascia poteva andare benissimo sul braccio di Teo Hernandez. Invece la squadra magari anche con l'allenatore hanno deciso di lasciarla sul braccio di un giocatore di Chessy che a fine stagione lascerà a parametro zero il Milan senza fargli guadagnare nulla come è successo anche con Cialanoglu e Donnarumma. Tra l'altro parentesi Cialanoglu anche ieri è stato pesantemente bersagliato dai tifosi del Milan per il suo passaggio all'altra sponda del Naviglio con la maglia dell'Inter quindi ogni volta che c'è un derby viene sempre preso di mira. Parliamo anche di Milanello e delle notizie che arrivano dal centro sportivo rosso-nero. Abbiamo detto di Romagnoli, per lui non c'è nessuna lesione all'adduttore, è una buona notizia e ancora in dubbio per la trasferta di Napoli perché comunque la partita si è giocata ieri, oggi ha fatto gli esami strumentali che hanno evidenziato comunque un problemino all'adduttore ma non ci sono lesioni. Questa è la notizia importante. Molto probabilmente giocherà però ancora Cialulu con Tomori al centro della difesa per marcare Ozyman, Insigne, insomma gli attaccanti e i centrocampisti di inserimento che ha il Napoli di Spalletti come lo stesso Fabian e quindi vedremo nel corso di questa settimana se Romagnoli recupererà per Napoli. Difficilmente recupererà Ibrahimovic, anche oggi ha svolto lavoro personalizzato, individuale, sarà però molto importante l'allenamento di domani e di venerdì per capire se Ibra sarà in gruppo. Se non dovesse allenarsi in gruppo Ibra non ce la farebbe nemmeno per Napoli, poi se ne riparlerà settimana prossima con l'Empoli. Quindi grande attesa anche per quanto riguarda Zlatan Ibrahimovic. Rassicuriamo i tifosi del Milan sulla situazione megnana perché il portiere francese sta bene, ha subito quella brutta botta o quel forte pestone da parte di Lautaro Martinez in occasione del derby. Lì Martinez ha rischiato anche il rosso perché comunque l'entrata era forte e decisa con i tacchetti sul braccio di Mike Meignan. Da Milanello dicono che stia bene, ha assorbito la botta quindi tutto ok per quanto riguarda l'ex estremo difensore del Lille, il portiere attuale del Mian, Mike Meignan. Quindi da Milanello sono queste le indiscrizioni e le notizie che filtrano su Ibra, su Meignan e su Romagnoli. Poi per quanto riguarda la probabile formazione naturalmente ne sapremo di più nel corso degli allenamenti e della settimana fino a sabato quando Mr. Pioli terrà la conferenza stampa alla vigilia di questo grande big match, di questa grande partita tra Napoli e Milan.